Il comune montano di Colledara nel Terramano ha dato il via al processo per ridurre gli impatti ambientali dei rifiuti ed in particolar modo l'utilizzo della plastica. Il primo passo è stato un convegno denominato Plastic Free insieme per un mondo senza plastica. La rivoluzione Plastic Free dopo la sfida lanciata dal Ministero dell'Ambiente che lo scorso 4 ottobre ha messo al bando la plastica monouso nelle proprie sedi ha stimolato un percorso virtuoso al quale stanno aderendo molte istituzioni locali tra cui l'amministrazione comunale di Colledara. Ormai riteniamo che il discorso della plastica biodecadabile sia un argomento di attualità a livello mondiale. Lo vediamo tutti i giorni in televisione i danni che prova la plastica ma soprattutto i danni irreversibili perché la plastica purtroppo dura quasi all'infinito. Quindi pensiamo di voler dare anche noi un contributo. Adesso cominceremo dal primo di gennaio con le feste più grandi, quindi le feste aperte al pubblico. Dopodiché avvieremo una campagna di sensibilizzazione ovviamente per portare al regime anche attraverso l'utilizzo della plastica da parte dei privati. Sensibilizzare la gente e soprattutto i più piccoli? Sì, devo dire che noi abbiamo già fatto un esperimento simile con la raccolta porta a porta. Un progetto che abbiamo avviato subito appena letti. Dopo sei mesi siamo riusciti ad avviare il servizio e con la collaborazione della popolazione che è fondamentale oggi abbiamo degli ottimi risultati che purtroppo potrebbero essere veramente eclatanti se riuscissimo a risolvere il problema che abbiamo a San Gabriele dove purtroppo la plastica che si produce a San Gabriele durante i vari eventi, durante soprattutto il mese estivo, ci abbassa il limite di differenziato che ci portano intorno al 67%. Abbiamo capito dalle varie indagini effettuate che il problema si ha soprattutto l'estate durante gli eventi e per la grande produzione di plastica.